Roberto Rossi non sarà più alla guida della Procura della Repubblica di Arezzo. Il Consiglio Superiore della Magistratura infatti non ha confermato il suo incarico. Con una netta maggioranza il plenum del CSM ha approvato la proposta della Quinta Commissione contraria alla riconferma del magistrato. Approvata dunque la linea del togato Pier Camillo Davigo, secondo il quale Rossi avrebbe compromesso, almeno sotto il profilo dell'immagine, il necessario requisito dell'indipendenza dai propri condizionamenti per aver mantenuto l'incarico al Dipartimento Affari Giudiziari della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche dopo l'avvio dell'indagine su Banca Etruria nella quale Rossi avrebbe potuto indagare anche sul padre dell'allora ministro Maria Elena Boschi all'epoca vicepresidente dell'Istituto di Credito. Delusione certamente sì per questa decisione che ritengo non giustificata dai fatti e che ritengo anche contraddittoria perché si basa su circostanze che erano già state compiutamente analizzate dalla precedente consigliatura che si era pronunciata per una piena archiviazione ritenendo che in questi fatti non vi fosse stata alcuna lesione del principio dell'indipendenza, della trasparenza e dell'autonomia nella conduzione delle indagini. Ora invece il Consiglio Superiore ha ripreso queste stesse censure rivalutandole in senso negativo. Credo che questo, a prescindere da quello che ritengo un travisamento di fatti costituisca anche una contraddittorità di decisione che non potrò non far valere in sede di legittimità. Contro Rossi anche il parere del guardasigilli Alfonso Bonafede. Si è basato su considerazioni circa, valutazioni circa l'autonomia, l'indipendenza le modalità di conduzione delle indagini ritengo che questi profili affrontati dal Ministro possano essere censurati sotto il profilo della legittimità temo anche della legittimità costituzionale. Il Procuratore Rossi ha già annunciato ricorso al TAR contro il provvedimento.